Buongiorno Lucchino, allora sono qua con Luke, Luke anche lui Luca. Ciao Luca, io sono Luca. Esatto, Luke è un ragazzo da California e volevamo semplicemente, siamo super impegnati però volevamo fare un piccolo video per te per ringraziarti poiché io mi ricordo tre anni fa avevo 16-17 anni stavo cercando su internet poliglotti come imparare le lingue e tu sei uno dei primi che ho trovato e mi ricordo di aver guardato quasi tutti i tuoi video dove spiegavi come imparare le lingue, come tu le imparate e mi ha dato veramente una comprensione di come si imparano le lingue veramente molto alte, molto molto utile, quindi ecco volevamo semplicemente ringraziarti e quindi anche Luke vuole ringraziarti in italiano perché come sai tu Mandela cosa dice, cosa dice Mandela? Allora la frase italiana non lo so ma l'inglese When you speak to a man in a language he understands it goes to his head, when you speak a man to a language that's his language it goes to his heart and this phrase really I think just embodies everything that you've talked about Luca e che mi piace un sacco tutte le cose che tu fai per la lingua e quando ho cominciato l'apprendimento italiano ti ho trovato sull'internet stavo cercando come si impara italiano e ci sono le persone che parlano tante lingue e ti ho trovato e poi ho guardato tanti dei tuoi video che mi piacciono un sacco davvero e volevo ringraziare sulla parte più importante allora e volevo ringraziare non riesce proprio emozionato non riesce a ringraziarti 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 ok e volevo ringraziarti per tutto quello che hai fatto per me per tutti anche per Alberto davvero tu sei un'ispressione per me è incredibile che tu riesci a parlare tante lingue e voglio raggiungere anche questo livello che tu hai in questo momento esatto e noi ammiriamo in particolare siccome non crediamo nel fatto che uno nasce con un gift come dicono in inglese ammiriamo in particolare siccome non crediamo nel fatto che uno nasce con un gift come dicono in inglese a ammiriamo il fatto la disciplina che hai messo per imparare 10-12 lingue esatto ogni giorno sappiamo che probabilmente hai passato molto tempo ogni giorno necessario esatto esatto quindi veramente apprezziamo moltissimo questo l'ispirazione dimostrare a tutti che è possibile non c'è diciamo c'è molto di speciale ma non c'è nulla di impossibile no quindi ecco ti voglio ringraziare dal cuore ci vediamo presto Lucchino ti vedrò presto grazie per tutto Luca e spero di conoscerti in persona qualche giorno speriamo magari anche con Alberto e grazie per tutto davvero grazie e grazie dal cuore davvero grazie Luca perfetto e ciao Lucchino ci vediamo presto ciao 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 ciao